Pago in Rete Come effettuare pagamenti a favore del Ministero Il servizio Pago in Rete del Ministero dell'Istruzione e del Merito consente al cittadino di pagare tramite Pago PAA i diritti di segreteria per la partecipazione a concorsi oppure per altre istanze. Dalla home page del sito del Ministero www.miur.gov.it seleziona il servizio Pago in Rete accedi attraverso il link che trovi in alto a destra Entra con le tue credenziali SPID o CE, carta d'identità elettronica Fai clic sul pulsante Vai a Pago in Rete Ministero Dalla lista dei pagamenti nello stato Eseguibile Seleziona quelli di interesse e fai clic su Effetto al pagamento Se richiesto, aggiorna i dati della causale e premi il pulsante Invia Il sistema mostra il riepilogo dei dati Per pagare subito online, clicca sul tasto Conferma pagamento oppure scarica il documento di pagamento per pagare in un secondo momento Se decidi di pagare online, verrai reindirizzato sul sito di Pago.pa dove potrai scegliere il metodo e il canale di pagamento per concludere l'operazione Potrai utilizzare il documento di pagamento per pagare successivamente sia online, sia sul territorio L'attestazione di ogni pagamento eseguito è disponibile, in genere dopo un paio di minuti, nella pagina Lista dei pagamenti Per scaricare l'attestazione di pagamento, imposta il filtro di ricerca nello stato Pagato Fai clic sul pulsante Cerca e seleziona l'icona Documenti presente nella colonna Azioni in corrispondenza del pagamento eseguito Fai clic sul pulsante